Benvenuti a Tam Tam, oggi con noi Damiano De Simone, presidente della consulta civica di Siracusa. Buongiorno Damiano. Ciao Melania, salve a tutti e buon anno. Grazie. Ecco allora Damiano, la consulta civica è un ente autonomo di pubblica amministrazione che ha poteri consultivi. Come funziona la partecipazione dei cittadini all'interno della consulta civica? Sì, praticamente la consulta si comporta come fosse appunto una pubblica amministrazione, chiaramente come hai ben detto, con poteri consultivi, ma fin dove comunque tutto ciò che viene proposto riguarda le competenze della pubblica amministrazione. Diversamente invece si riserva di alcune autonomie che le permettono appunto di avviare determinate iniziative che in questi ultimi mesi, tra l'altro nel periodo Covid, si sono concluse a pieni voti. Quindi nella sostanza la consulta civica diciamo che permette al cittadino di essere protagonista e titolare anche di una proposta che poi chiaramente viene discussa all'interno dell'aggiunta civica, quindi emendata, migliorata e di conseguenza inoltre dalla pubblica amministrazione. Ecco quindi può anche darsi che poi una proposta del cittadino abbia il nome del cittadino che la propone? Sì, ha il nome del cittadino perché è giusto che la delibera contenga questo, anche perché dobbiamo ricordare che in quel caso noi dobbiamo dire grazie al cittadino che si interessa della città o della cosa pubblica, quindi riconoscerne il merito, la paternità è alla base, soprattutto anche per uno sviluppo sano del senso civico e della partecipazione. Giusto. Ecco, la consulta civica è un ente autonomo che esiste dal 2014. Le iniziative che ha portato avanti in questi sei anni sono tante, tra le quali appunto ora tu ne illustrerai qualcuna, ecco una di marketing territoriale ad esempio, molto interessante. Sì, recentemente abbiamo realizzato il limoncello Christian Reman, che tra l'altro appunto come dici è un'operazione di marketing territoriale perché attraverso l'inserimento del prodotto nella rete commerciale, chiaramente extramenia, parliamo di redi commerciali di respiro regionale, nazionale ma anche estero. Questo permette di far veicolare il nome di Siracusa ma in questo caso anche del contenitore culturale che è la Villa Reiman. Il limoncello chiaramente non è stato realizzato con i limoni di Villa Reiman, nonostante ne abbiamo chiesto accesso, ma comunque ripete fedelmente quello che è il contenuto dell'agrumento di Villa Reiman. Quindi in questo caso il limone che ci auguriamo un giorno possa essere utilizzato invece di purtroppo cadere a terra. Ecco, l'operazione è anche economica perché si prevede, dalle vendite gli utili poi vanno in questo caso in consulta. Domani vorremmo che fosse il comune ad esserne titolare. Poi con questi fondi, con i ricavati della vendita si possono finanziare tante iniziative, alcune proposte da voi oppure anche se doveste coinvolgere altri enti, comunque anche proposte dal comune o da altri enti. Sì, con gli introiti intanto il 10% viene riconosciuto al consorzio universitario Archimede perché pensiamo che l'università debba essere sempre sostenuta e mai perso di vista questa attenzione. Tutto il resto invece poi viene impiegato in città chiaramente. Oggi soprattutto nel periodo Covid riteniamo opportuno puntare su determinate priorità e quindi evitare determinate spese che in questo caso possono essere anche superflue o comunque si possono rimandare. Damiano, molte sono le iniziative di quest'ultimo periodo, iniziative di solidarietà, giusto? Alcune riguardano la distribuzione di alimenti. Sì, abbiamo organizzato una grossissima rete che oggi vede all'interno di questo contenitore che stiamo per istituire con la consulta che è il Comitato della Società Civile Unita. Questo contenitore diciamo ne fanno parte delle associazioni molto importanti e affermate nel nostro territorio, come ad esempio la Croce Rossa Italiana, l'Associazione dei Carabinieri, il SIULP, il Centro di Solidarietà delle Opere e tantissime altre associazioni che in qualche maniera si mettono a disposizione appunto per... Già operano nel sociale, per la sicurezza, che sono accanto ai cittadini. Esatto, sono associazioni che già hanno contezza di quello che è il territorio dal punto di vista appunto, mi dispiace dirlo, ma anche della comunità degli indigenti. La comunità degli indigenti che è stato ultimo argomento che abbiamo trattato insieme ai presidenti di queste associazioni e che quindi praticamente nasce l'esigenza di censire, di creare un vero e proprio elenco degli indigenti a Siracusa. Questo anche perché? Perché si possa intervenire in maniera celere e mirata. Oggi purtroppo ci rendiamo conto che la crisi dovuta al Covid ha creato praticamente un po' di caos. Questo perché manca a monte un'organizzazione proprio sociale che possa permettere anche di capire e di frazionare le varie categorie in maniera tale di intervenire nel merito. Oggi, forti di questa esperienza, abbiamo anche realizzato una proposta che è appunto quella di realizzare, di interessare l'amministrazione comunale affinché possa censire la popolazione e quindi fare anche una distinzione tra comunità di indigenti e quindi anche nuovi poveri che oggi purtroppo... Sono in aumento perché appunto ci sono tante attività che sono chiuse, tante che aprono e chiudono e comunque non hanno più l'attività economica di una volta, insomma di una volta, anche di un anno fa. Esatto. Quindi giustamente le famiglie che hanno bisogno aumentano quelle famiglie che non arrivano alla famosa quarta settimana. Esatto. Ma c'è anche un problema in tutto questo che distingue i nuovi poveri dagli indigenti tradizionali ed è praticamente il non essere abituati a questa situazione così drammatica. Quindi il pudore diventa un ostacolo invalicabile per molti. Per questo realizzare una lista, diciamo, realizzare una mappatura delle varie categorie che permette di intervenire sulla classe degli indigenti tradizionali e nel frattempo organizzare anche tutta quella che può essere una rete che possa permettere di arrivare anche in forma anonima a queste persone. Voi avete già distribuito tanti alimenti, ecco io so, durante il periodo del lockdown, il primo e anche durante i, insomma, gli altri, questi mini lockdown che si susseguono a partire da dicembre. Poi l'ultima iniziativa invece è un'iniziativa che riguarda i più piccoli. Sì, perché non dobbiamo mai far perdere loro il sorriso. Sui piccoli bisogna investire, a tutto tondo, dico sempre, perché loro rappresentano la classe del domani. Ma mi ricordo già dal primo lockdown la consulta fu, diciamo, promotrice di una campagna di raccolta non solo civica, cioè quindi tra la rete dei cittadini e delle associazioni, ma anche intervenendo direttamente, richiamando all'attenzione, alla causa, alle varie aziende, non solo locali, ma anche multinazionali, come ad esempio la Parmalat, la Rummo, che sono intervenuti sostanzialmente nel far arrivare determinate derrate. Nella totalità, fino ad oggi, abbiamo gestito qualcosa come 8 tonnellate di derrate alimentari che sono state distribuite attraverso la rete dei cittadini che hanno segnalato in maniera privata, ma anche delle associazioni che riconosciamo, cioè le coattività le riconosciamo peculiari in questo senso. Poi la distribuzione è avvenuta, fatta da voi volontari, insomma, da una rete di... Abbiamo realizzato una rete di volontari che man mano è andata crescendo e poi con la sinergia tra le associazioni del territorio siamo riusciti ad arrivare anche laddove chiaramente da soli non si poteva. E quindi questo merito di tutti quegli enti che operano per istituzione in questo campo, come ad esempio la Croce Rossa, come ad esempio il SIULP, ma anche il Centro di Solidarietà delle Opere e tante altre associazioni che operano ordinariamente nel campo della solidarietà. Certo. Invece i giocattoli per i bambini saranno, giocattoli o forse anche la calza per la Befana, saranno distribuiti a breve? Sì, allora i giocattoli sono stati distribuiti sempre alla Croce Rossa ma con il grande aiuto delle altre associazioni che durante il periodo si sono adoperate anche nel confezionamento di questi giocattoli. Prima ancora le abbiamo fatte sanificare da una ditta che si è messa a disposizione in maniera volontaria. Infatti saluto Gianni Poerio perché fece fare praticamente, grazie a questa ditta, la consulta ha potuto far sanificare anche 400 autovetture delle forze dell'ordine gratuitamente e quindi in questo periodo anche i giocattoli hanno potuto godere dello stesso trattamento. Quindi ai bambini sono arrivati assolutamente disinfettati. Ma si sono messi anche a disposizione i vigili del fuoco in congetto la sezione cinofila di Siracusa e tutte le altre associazioni che insieme sono andate a confluire appunto nel furgone della Croce Rossa che poi ha accolto a ben volere sia esatto questa raccolta. Invece appunto le calze per la Befana sono ancora in via? Adesso sono in produzione, sono in produzione le calze della Befana ma voglio dire queste sono attività che vogliono far sentire l'affetto e il calore da parte della società civile alle famiglie che purtroppo in questo momento hanno perso la speranza e quindi grazie anche a tanti altri professionisti riusciamo in qualche maniera ad assistere di sotto il profilo anche psicologico ma soprattutto ai bambini perché a loro non deve mai mancare nulla. Certo. Damiano, progetti su Siracusa dopo la pandemia, cosa pensi che si debba fare? Ma intanto va considerato il fatto che oggi a tutto tondo si subisce l'effetto di questa pandemia dal punto di vista economico soprattutto ma e quindi anche occupazionale dal punto di vista anche del sostanzialmente psicologico perché comunque ci si trova a subire una certa pressione alla quale non si era preparati. Ma sicuramente va considerato fondamentale, va considerato comunque va tenuto conto degli effetti che invece si rifletteranno dopo la pandemia o comunque nei prossimi mesi perché oggi li stiamo subendo, li stiamo vivendo nel presente ma dopo quando tutto tenderà a tornare alla normalità allora ci renderemo conto dei nervi scoperti come già ci siamo resi conto la prima volta quando sostanzialmente è stato difficile affrontare i primi passi di questa pandemia quindi dal punto di vista sanitario, dal punto di vista scolastico esatto dal punto di vista sanitario le carenze esatto bisogna lavorare su tutto quello che ha rappresentato il problema comunque il sistema è vario, il sistema è complesso e le varie falle hanno rappresentato tutte quelle parti che oggi invece devono essere attenzionate e riportate a livello di normalità ecco appunto la situazione è difficile per molte famiglie la consulta civica rappresenta appunto come abbiamo detto prima anche il punto nevralgico che permette ai cittadini di poter partecipare alla vita attiva, alla vita politica della città ma quali sono secondo te quei temi, quelle situazioni che dovrebbero essere cambiate a Siracusa per poter poi riprendere a vivere come forse si viveva una volta o comunque migliorare la situazione economica o anche da altri punti di vista ma intanto il punto che tutti hanno in comune è la crisi occupazionale, la crisi economica che chiaramente non era assolutamente prevista molti padri di famiglia oggi si trovano senza un'occupazione da un giorno all'altro e chiaramente anche lo Stato stesso, il governo, non voglio dire il governo ma lo Stato proprio come struttura non era organizzato per poter affrontare una pandemia di questo livello, esatto quindi oggi ci ritroviamo di fronte ad una situazione assolutamente drammatica ma come è straordinaria la situazione in maniera straordinaria bisogna anche affrontare o comunque intervenire, quindi molte volte arrivare a sintesi e cercare di deburocratizzare tanti interventi rappresenta anche il... Quindi questa è una proposta... Sì, lavorare molto sulla burocrazia cercando di snellire ma soprattutto come intervento politico, come indirizzo dobbiamo puntare sicuramente ad un bilancio di buonsenso puntare sul taglio degli sprechi perché ce ne sono tantissimi cercare di fare cassa attraverso la progettazione sociale perché i fondi anche europei ci sono, i fondi ministeriali, regionali ci sono ma vanno fatti i progetti per poterne, diciamo, recepire le risorse ma va soprattutto puntato il riflettore su quelle che sono le partite IVA perché al centro di ogni comunità, al centro di un'organizzazione sociale la partita IVA rappresenta il grembo che sostanzialmente produce poi il fisco il fisco ha più livelli, partiamo da quello nazionale, quindi i tributi locali quindi se prima noi chiedevamo, se prima un'amministrazione chiedeva giustamente le tasse, i tributi da pagare, oggi deve anche preoccuparsi di curare le ferite che purtroppo oggi molti si stanno letcando Certo, ecco, quindi tu che hai il polso un po' dell'umore della cittadinanza della vita all'interno di alcune situazioni un pochino più disagiate insomma, ecco, hai perfettamente ragione Sì, creare opportunità, creare fondi che possano permettere di dotare di autonomia economica le famiglie quindi sì l'assistenzialismo, però l'assistenzialismo deve rappresentare anche una parentesi non uno stile di vita Certo, no, assolutamente Questo è fondamentale, fin quando sarà necessario noi ci saremo sempre e mi auguro anche le istituzioni cosa di cui non ho dubbio però dobbiamo puntare a rendere autonome le persone perché è l'autonomia che porta A rilanciare l'economia A rilanciare l'economia della famiglia, nel vero senso della parola, sì Ecco, progetti per il futuro, Damiano Progetti per il futuro ce ne sono tanti Sicuramente quello di contribuire in maniera determinante nelle scelte della pubblica amministrazione attuale perché ancora per altri due anni e mezzo avremo il confronto con questa aggiunta e quindi quello che mi auguro è che prevalga l'ascolto da parte delle istituzioni soprattutto quelle di governo locale ma soprattutto che nasca quel sentimento che poi accomuna un po' tutti perché indipendentemente dalle estrazioni politiche, indipendentemente anche dai pensieri ideologici oggi ci ritroviamo a stare tutti all'interno di una stessa comunità e quando si va a gestire un ente comunale si sta parlando di una grossissima azienda complessa che non deve subire gli ostacoli che si possono frapporre tra un soggetto e un altro e quindi ai danni di una soluzione che poi invece può beneficiare a tutti bisogna invece essere tante volte predisposti anche all'ascolto e alla sinergia cioè alla collaborazione laddove comunque è fondamentale che ci sia Come crescerà la consulta civica nei prossimi anni? La consulta ha già avviato un percorso di regionalizzazione in diverse città è presente come Catania, come Paternò, quindi nel Catanese, anche nella zona di Messina stiamo iniziando a rapportarci con alcuni nostri interlocutori e quindi intende esserci a livello regionale ecco il modello consulta civica può diventare un modello efficace di partecipazione ma soprattutto di garanzia democratica cioè quindi dotare il popolo di una istituzione che permetta di non concludere il proprio mandato alle urne parlo sempre del popolo ma che possa continuare anche all'interno di un contenitore istituzionale che è atto a dare voce e quindi atto all'ascolto, all'osservazione del territorio e quindi trasferire queste in proposta nelle aule dove si decide In iniziative concrete Esatto Va bene, grazie per essere stato nostro ospite Damiano De Simone, presidente della consulta civica di Siracusa Noi ti facciamo tanti auguri per il futuro Grazie, grazie a tutti